Il duro lavoro della picoltrice che porta i favi a destinazione sul camion e poi si impignano tutti uno vicino all'altro cercando di non schiacciare le api. Poi c'è l'apicoltore senior che sta dando da mangiare alle api, bravissima, continua così. Siamo qua in questa piccola parte di paradiso nel bosco dove tutto è tranquillo e le api possono volare tranquille ecco che torna la piccola picoltrice affaticata del duro lavoro a tutti i nostri spettatori che sono stati Lui è il mio apicoltore senior preferito Io sono profondamente innamorata di lui E' l'uomo perfetto che io ho sempre voluto al mio fianco Grazie